Buongiorno, siamo di nuovo a San Francisco, ci siamo svegliati presto all'alba, siamo tornati al Golden Gate Bridge perché ieri c'era tantissima nebbia e non siamo riusciti a vederlo bene, cioè l'abbiamo visto già altre volte da lontano ma non eravamo ancora tornati vicino per rivederlo. Sono le 7 di mattina, per fortuna la nebbia si è alzata stamattina e finalmente riusciamo a vedere il ponte come si deve, illuminato dalla luce dell'alba. Ora cercheremo anche di ultrapassarlo. Daie! Siamo tornati sotto il Golden Gate, dove eravamo stati anche ieri, al Fort Point, però ieri c'era un clima decisamente diverso, oggi invece è salito ed ha assorto da poco un sole bellissimo, una luce bellissima che non tira neanche vento in questo momento, che è una cosa assurda. dietro di noi si vede il ponte, il lunato dal sole e tra poco lo attraverseremo. Ciao! Wow! Wow, bella anche la passarella! Bellissimo! Bellissimo! Stiamo percorrendo tipo il ponte più famoso del mondo. No, ovviamente siamo. Mi toccavano le alba! Dio! In questo momento siamo in mezzo sull'alba. Oddio! 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 Wow che pi 4iche! Ero a te! È certo che nessa passarella! Modeno comunque in questo momento ci abbia una Kyle di qua, vivendo solo una fine ve segunda più grande. È troppo ¿verso la primavera? Sì! Wow, buona ferro. Eccolo. E'issimo. Fa' soltanto parlare di buona. Sì. Sono proprio un modellino. Sì. Fantastico. Abbiamo lasciato San Francisco. Abbiamo lasciato San Francisco. Sì. Sì. Abbiamo qua. Sì. Passiamo a Ponte. Sì. Questa. Ciao, siamo a Battery Spencer, che è uno dei tanti punti panoramici sul Golden Gate, è uno dei punti panoramici più alti, e si vede dietro di noi, te la viste sul Golden Gate, siamo dalla parte verso Stato Salito, quindi già fuori dal territorio di San Francisco. Abbiamo una costa davanti a noi, oggi è una bellissima giornata, non tira vento, ed è quasi caldo, quasi caldo. Sì, abbiamo i piumini addosso, però è quasi caldo. Abbiamo comunque giubbotti, ma è comunque caldo. Stai andando a San Francisco, è una giornata bellissima. Ciao! Battery Spencer, con la vista sul Golden Gate Bridge, uno dei punti panoramici più alti, e sullo sfondo del Golden Gate, la città di San Francisco. Stiamo a Twin Fix, un monte proprio sopra San Francisco, anche proprio all'interno di San Francisco, ci vede una vista meravigliosa su Tarabaya, su Downtown, i gattici di Downtown, e anche il Golden Gate, sulle piene a Francesco. Ci serve solo con la macchina, in pratica, perché o a piedi o di corso o in macchina. Sì, la piene è un po' lunghezza, un po' costibile. Ma c'è una vista stupenda, quando non c'è la nebbia, oggi non c'è la nebbia. Molto bene. Ciao! Ciao! Questo lato a Twin, sarà più imparato, perché è tutto il San Francisco. Sì. È tutto la montagna. È più soleggiato. Vero, sembra anche più caldo. Ah, adesso è un caldo, ma adesso proviamo, sono più riparato. Ebbè, è più caldo perché c'è meno menso. Ora, perché ciao! Grazie a tutti.